salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video il 26 ottobre 2019 avevo postato questo video sul canale youtube dove mostravo una strategia non direzionale a bassissimo a bassissima probabilità di rischio bassissima perché che serve a vedere il video ti mostravo come è possibile creare una strategia non direzionale con le opzioni dove se il prezzo dovesse crollare non rischio nulla anzi prendo un piccolo profitto se resta fermo guadagno se sale fino ad un certo punto guadagno lo stesso quando avrei perso se il prezzo nel tempo fosse salito e fosse rimasto tra questi due livelli questo è un grafico settimanale comunque ti consiglio di andare a vedere il video il doping del trading nel mio canale guadagno automatici punto it e vediamo oggi come si è evoluta questa strategia in quel video il prezzo inizialmente era qui al centro oggi è sabato i mercati sono chiusi quindi non mostro mai let now perché mi dà dei valori sballati il prezzo era qui in mezzo però dicevo anche in quel video che se il prezzo fosse sceso velocemente io potevo portare sopra lo zero questa strategia attualmente questa strategia è il rischio su questo livello che parliamo di 1 17 e 50 diciamo da qua in poi inizio a perdere però per poi riguadagnare se il prezzo dovesse continuare a salire questo perché perché ho comprato un paio di opzioni che mi sono costate solo 37 dollari e 52 opzioni quindi il mio rischio massimo se queste due opzioni si chiudono in perdita come sta succedendo è di 37 dollari e 50 ora come lasciando stare queste due opzioni diciamo io le tolgo le lascio per ci costruisco sopra un'altra strategia le lascio così come se non le avessi che cosa succede oggi euro dollaro è sceso e sono trascorsi 40 giorni 39 per l'esattezza su 125 rimanenti quindi il prezzo è sceso velocemente questa strategia già in profitto di oltre 300 dollari però abbiamo un profitto massimo a scadenza sui punti più alti di 735 dollari però qual è la cosa bella io oggi a soli 40 giorni ripeto su 165 iniziali erano sono trascorsi 39 ho un guadagno massimo di 735 dollari che possono sembrare pochi però attenzione 40 giorni sono trascorsi questa col qui per coprire questa perdita siccome il prezzo è sceso attualmente vale pochissimo e lunedì quando la comprerò perché ancora non l'ho comprata varrà ancora meno perché passerà un altro giorno attualmente vale sui 7 punti quindi che cosa succede se io vado ad acquistare no scusate ho sbagliato con l'altra se vado ad acquistare oggi quella call tralasciando le altre che ho già dentro e che valgono solo 37 dollari e se perdo poco mi interessa la strategia si trasforma in questo modo quindi tutta sopra lo zero vi ricordo che letta now è più o meno così non la mostro perché da valori sballati attualmente esce tutta storto comunque a mercati aperti let now è praticamente una linea quasi parallela a questa che sta più o meno al centro a questo punto una volta portata la strategia sopra lo zero quindi io non posso più perdere posso aspettare se voglio questa scadenza in modo da prendermi il massimo profitto posso costruire sul nuovo livello di prezzo che adesso è non è proprio questo diciamo che più o meno qua ora il prezzo diciamo sul nuovo livello di prezzo posso costruire un'ulteriore strategia come questa che cosa succede se le cose vanno bene tra circa 40 giorni io posso portare sopra lo zero anche quella strategia ne costruisco un'altra quindi che cosa succederà al trascorrere del tempo io inizio ad avere tutte le scadenze cioè oggi mi scade questa poi mi scade l'altra poi mi scade l'altra che però intanto io ne ho costruite altre quindi inizierò ad avere una successione di scadenze più o meno di 20 30 40 giorni di distanza l'una dall'altra per incassare cifre come queste in questo caso 700 diciamo guardando qua se il prezzo resta qua intorno ai 650 poi dipende dal momento diciamo intorno ai 650 dollari la cosa buona qual è che questa strategia in questo caso è stato fatto solo con gambe composte da una sola opzione e come vi ho fatto vedere nell'altro video le probabilità di rischio sono veramente basse specialmente su uno strumento come questo euro dollaro che è molto lento e molto fermo quindi la cosa buona qual è che se io volessi raddoppiare il numero delle opzioni e delle gambe quindi invece di farlo con un'opzione voglio fare al doppio io non vado a prendere più 650 ma andrei a prendere giusto il doppio quindi 1300 dollari su ogni scadenza solo con una strategia del genere cioè facendone una per volte come detto come portarla come la mettete sopra lo zero ne costruite un'altra perché qui non avete più rischio liberate anche i margini solo con queste strategie si possono riuscire a portare a scadenza mediamente diciamo 9 10 11 strategie all'anno dove ognuna ti dà se fatta con una intorno ai 700 800 dollari poi dipende dal momento e di come la si costruisce fino a può essere anche due tre volte questo importo perché se io uso due opzioni per gamba avrò il doppio se ne uso tre posso avere il doppio come detto let now attualmente così che significa che è vero che qui vado a guadagnare poco ma vado a guadagnare poco se si ferma qui se aspetto la scadenza ma se la chiudo prima bene o male una metà di 600 li vado a prendere intorno ai 300 400 secondo del momento in cui la chiudo però diciamo l'area di profittabilità è veramente ampia cioè le probabilità che il prezzo resti qui sono alte perché diciamo ci sono tre belle gobbe molto ampie che possono permettermi di guadagnare il massimo ma anche se si dovesse fermare qui 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 c'è a parte se aspetto l'ultimo giorno e il prezzo si fermi qui non vi faccio perdere altro tempo vi consiglio di contattarmi per imparare questo fantastico strumento sulle opzioni vi ricordo che io non sono un formatore ma vi consiglio la migliore scuola per imparare con corsi one to one non corsi registrati non corsi di due o tre ore ma corsi suddivisi in varie lezioni più periodi di esercitazione tutto one to one online con il vostro coach alla prossima